buongiorno amici oggi la liturgia della chiesa nel suo calendario ci fa celebrare la festa dell'apostolo san mattia che entra nel collegio apostolico dopo l'uscita di scena del traditore giuda iscariota si ricompone così il numero 12 che memore delle 12 tribù di israele diventa figura della nuova comunità che nasce dall'evento pasquale di cristo il crocifisso risorto spesso pensiamo ad una chiesa irremovibile inflessibile incapace di cambiare idea opinione perché timorosa di modificare qualcosa di ciò con cui tradizionalmente vive nella storia il vangelo invece oggi ci mette di fronte ad una realtà molto fortemente dinamica non si ha paura di decidere per qualcosa di totalmente nuovo soprattutto quando ci si sente avvolti dal soffio creatore dello spirito rimanere in dodici dice tutto ma forse può anche non esprimere nulla in particolare si tratta di un numero squisitamente simbolico gli undici desiderano far entrare nella propria comunità una riserva mattia mattia che aveva già seguito Gesù fin dalla galilea e Gesù vedete proprio a questa chiesa che teme cambiamenti che cosa viene a ricordare non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi ecco dunque il capovolgimento che viene operato da Gesù nella costituzione della comunità con gli apostoli che ha chiamato a sé dall'essere servi all'essere considerati amici e questo il passaggio e questa la pasqua per noi chiesa come che cosa vuole dio da noi vedete i servi sono semplicemente servi schiavi dipendenti perché non conoscono nulla di ciò per cui esistono vivono operano ma gli amici invece ricevono preziose confidenze sono trattati alla pari come la nostra vita immersa nei vissuti amicali di ogni giorno con dio e in dio vedete la nostra vita è una vita da protagonisti non una vita di puri esecutori infelici e insoddisfatti poi di ciò di cui si sta vivendo e allora ci chiediamo ma cosa significa tutto ciò per noi oggi che siamo vedete immersi in una esistenza farcita di vero amore e allora pronti a chiederci che cos'è l'amore di cui tanto ci parla gesù ecco che l'evangelista ci consegna due direttrici di marcia e dice in questo sta l'amore non siamo stati noi ad amare dio ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati però attenzione non è tutto qui questo non può bastarci eppure sappiamo che il segreto sta qui è nascosto dentro questa affermazione di gesù e dove sta questo segreto non è tanto radicato nella nostra capacità di saper amare forse siamo anche abili siamo bravi sappiamo essere simpatici sappiamo relazionarci sappiamo coinvolgerci con l'altro ma ciò che conta di più è lasciarci amare da gesù ci lasciamo amare da gesù ci lasciamo afferrare da lui ci lasciamo abbracciare dal suo amore ci lasciamo riempire il vuoto della nostra esistenza da questo amore smisurato sconfinato illogico che gesù viene ad offrirci e allora come ci ama gesù ci ama così come il padre ama lui ed è bellissimo sapere che siamo amati da dio soprattutto così come siamo con i nostri limiti con la nostra povertà con le nostre cadute quotidiane però questo sappiamo che ci costa molta fatica perché è difficile accettare di essere amati nella povertà del nostro essere e allora che cosa possiamo fare io penso che dobbiamo cominciare a prestare molta attenzione a non ferire a non far soffrire l'amore di gesù per noi perché vedete far dispiacere gesù per quello che non vogliamo lasciarci coinvolgere da lui è grave il suo dispiacersi non è tanto per le cadute dei nostri peccati che sono puntualmente lì accanto a noi avanti a noi dietro di noi ma gesù si dispiace soprattutto quando non ci lasciamo amare da lui e provochiamo un implacabile dolore nel suo cuore allora vedete l'esperienza di vedersi preceduti dall'amore di dio permetterà a noi ogni giorno di crescere nella gratitudine e la gratitudine può essere manifestata solo in un'unica maniera e gesù ce lo ricorda questo vi comando amatevi gli uni gli altri che cosa ci resta da compiere ogni giorno se non fare ciò che lui ha fatto con noi sempre amare e basta seguire il cuore lasciarci spingere da quel soffio vitale che dal cuore va incontro all'altro con un amore semplice disarmante mite umile povero se riusciremo ad essere come gesù riusciremo davvero a cambiare questo nostro mondo buona giornata a tutti voi grazie a tutti